Guardate questo è Tony Elias che addirittura sparca dopo essere stato sbalzato dalla moto che procede dritta 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 e va a spiantarsi dritta come un fuso con una violenza spaventosa all'interno degli airspace ed è questa l'occasione che colgo, oppure anche questa se volete per riportare quello che il responsabile della Honda Italia per quello che riguarda le corse Carlo Florenzano ci ha detto dopo essere andato, ah che brutta questa qua, brutta questa qua Canepa si è messa all'esterno per far passare Aiden, è stato sfortunatissimo perché proprio in quel momento Aiden ha perso il controllo della sua moto e gli ha rovinato a donna